Natale con Mercadante Siamo arrivati al terzo appuntamento quello di stasera e anche l'ultimo di questo anno sfortunato, questo 2020 in cui avremmo voluto celebrarlo in tutt'altra maniera con altri tipi di attività, di concerti e di omaggi a questo nostro concittadino invece siamo costretti a farlo in streaming Siamo qui davanti alla casa natale di Mercadante alle mie spalle ma siamo anche davanti alla chiesa di San Nicola all'altra chiesa, quella di San Biagio dove la leggenda vuole che Mercadante abbia iniziato il suo percorso musicale perché la sua passione è nata proprio sugli scalini di queste due chiese dove pare da bambino non amasse suonare il flauto e sarà per sempre poi il suo strumento preferito Quello di stasera è un appuntamento con Michele Marvulli Michele Marvulli, per chi non lo conoscesse è un grande musicista altamurano doc nato da Altamura direttore d'orchestra soprattutto è un grande pianista ovviamente ha fatto la sua fortuna artistica in giro per l'Italia e per il mondo anche è stato allievo di Nino Rota il collaboratore di Nino Rota ha diretto diversi conservatori tra cui quello di Pesaro per ben 17 anni è un musicista riconosciuto in tutti gli ambienti musicali italiani e internazionali ci farà questo omaggio una vera e propria masterclass in cui a partire da alcune pagine mercadantiane ci illustrerà un po' la figura di mercadante anche nel confronto con alcuni suoi contemporanei lo farà con la sensibilità di un musicista e di un pianista quindi vi auguro un buon ascolto di questa è una buona visione ma nello stesso tempo approfitto per fare a nome di tutta l'amministrazione comunale un augurio sincero di un nuovo anno e di un buon 2021 grazie Buonasera sono devo confessarlo abbastanza emozionato di questa mia presenza a questo meraviglioso avvenimento la commemorazione il 150 anniversario della morte del nostro concittadino salario mercadante mi sento in obbligo di ringraziare di cuore il comune di Altamura per avermi fatto l'onore di partecipare come invitato di qualità e oltretutto come concittadino perché per chi non lo sapesse io sono tornato proprio ad Altamura ma tanti tanti anni fa in un momento che se vi dicessi di paragonarlo al momento attuale non ci credereste per quante differenze così quante differenze di vita hanno caratterizzato in 90 anni il percorso della mia cara città vissi i primi anni in un appartamento moderno di mia Santa Caterina qualche cielo sui miei genitori papà era un funzionario del Banco di Napoli mamma una casaliga però ambe due dilettanti di musica papà aveva imparato a suonare il violino dal suono e mamma aveva studiato il pianoforte un cenno meriterebbero anche i miei nonni mio nonno Michele Barbulli fu professore di matematica e poi preside del liceo e il nonno materno Antonio D'Alessio va considerato una specie di celebrità di Altamura credo che fosse l'unico o perlomeno il più importante fotografo che esistende già ai primi del novecento pensate che ho scoperto che una sua foto si vende su Amazon perfino ne voglio postare una che mi trovo così per caso insieme a qualche foto dei miei genitori e a qualcuno dalla mia prima infanzia più tardi quando la famiglia si grandì eravamo ormai tre figli maschi a distanza di due anni uno dall'altro e il nonno Antonio il fotografo morì e quindi la nonna vedeva venne a vivere con noi papà dovette trasferirsi in una casa più grande e capitammo guarda caso proprio in quella meravigliosa grandissima casa dove era vissuto Saverio Mercadante l'illustre con cittadino che dirvi ho passato dall'età di cinque anni infatti non andavo ancora a scuola tutto il periodo scolastico l'ho vissuto in quella casa quanti ricordi quante cose belle quella grandezza dava a noi tre ragazzi la possibilità di giocare di inventarci dei giochi eravamo padroni di un gruppo di stanze non avevamo neanche bisogno di andare in giro per raccontare tutto quello che siamo riusciti a fare ci vorrebbe ci vorrebbe un libro e non è il caso ma mi preve ricordare che quando poi dopo quando papà fu promosso e trasferito in sede a Bavi questo avvene nel 1943 per qualche anno siamo andati ancora avanti così il povero papà viaggiava e il viaggiare di quei tempi con lei le ferrovie che avevano lucane non era certo non era certo uno scherzo alla fine nel 1947 abbiamo deciso di trasferirci anche noi e abbandonai a male cuore la mia meravigliosa altavura per trasferirmi a Bari ma posso dire con orgoglio che non l'ho mai dimenticata l'ho portata nel cuore in giro per il mondo e quando pronunciavo questo nome con un malcelato pizzico di orgoglio la altavura la leonessa di Puglia la cittadina che aveva resistito alle orde furiose del feroce carmelare ruffo a volte mi chiedevano a altavura ma dov'è ma come dov'è la città del pane buono ma allora sì tutti confesso che in gioventù quando mi si dava l'occasione ero mai adulto dopo un tentativo di raggiungere altavura in labretta fallito fallito miseramente perché la pavola labretta sulla salita di Bellitto si grippò e mi lancio a piedi ma poi dopo acquistai una 600 e sempre quando decidevo di venire e già entravo nelle brevuce abbassavo un po' il finestrino specialmente nelle stagioni intermedie primavera oppure primavera oppure autunno e quel meraviglioso odore di usuru pud usuru pud che non ho mai capito che cosa fosse ma una cosa talmente estruggente mi riempiva i polmoni di gioia mi sentivo a casa finalmente poi naturalmente con il passare degli anni le visite si sono fatte sempre più rare mio padre morì ed è sepolto dal tavolo nella tomba di famiglia ma adesso torniamo al tema principale sapere mercadante vive una vita di trionfi infiniti mai un insuccesso gode della stima di musicisti importanti come Rossini come gli stessi amici Bellini Donizetti e soprattutto Franz Liszt che lo definisce uno dei musicisti più razionali e più efficienti la sua morte rappresenta un lutto enorme per la città di Napoli per il regno riceve funerali immensi e lascia un ricordo di sé immemorabile non c'è alcun dubbio che è molto un grande compositore stranamente qualcuno poco tempo dopo afferma che Saverio Mercadante malgrado la sua grande produzione ma la sua grande popolarità va considerato solo come un compositore di secondo piano i veri grandi sono solo quattro Rossini Bellini Donizetti e verdi e verdi e aggiunge e la storia ha dato ragione tant'è vero che Mercadante non si esegue più questo è il tema che vorrei analizzare fermandosi sul fatto che alcuni autori dimenticati non si eseguono più ma questo è un fenomeno biologico basti pensare che capitolo al povero Giovanni Sebastiano Bach che cinquant'anni dopo la sua morte nessuno più si ricordava che c'era stato questo grande musicista se non fosse stato per Felix Mendelssohn che nel 1829 riscoprì un oratorio di Bach e lo eseguì pubblicamente e lo rese noto forse oggi nessuno parlerebbe di Bach ma decine di musicisti piccini a Bari musicista strepitoso detto legge a Parigi era ritenuto grandissimo distrutto da una stupida gara con Gluck a parte il fatto che gli avvenimenti dell'Ottocento e le successive variabili avvengono così tanto rapidamente che non fai a tempo a renderti conto che c'è un atteggiamento un indirizzo culturale che già ne sorge un altro qualche breve cenno sul percorso di studi di mercadale di musica famo all'età di 13 anni avendo dimostrato di avere una particolare attenzione un talento come si direbbe per la musica fu ammesso al reale conservatorio di San Sebastiano di Napoli approfittando di un posto libero mercadante fortunosamente si trovò in una scuola che qualche anno dopo esattamente nel 1806 con un editto del re borbonico residente a Napoli mi pare Francesco primo fu trasformato in reale conservatorio di musica e preso il nome di San Pietro a Maiella ecco mercadante entra in questo collegio e tra i suoi insegnanti di Fenaroli incontra anche il conterraneo Giacomo Tritto e poi il direttore dell'istituto il feroce e terribile Nicola Ziccarelli devutissimo supercritico ebbe insieme al nostro mercadante altri due grandissimi talenti Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti ma severissimo con loro Di Bellini disse che non aveva mai capito la strumentazione di Donizetti sopportava sì o no i suoi personaggi che li riputava dei fantocci un po' improvvisati Mercadante aveva un carattere molto resistente dovete subire anche lui molte rampoglie ma le digerì per bene e a quell'epoca si rispettavano i maestri e bisogna dire che gli inizi della produzione musicale del Mercadante furono sicuramente ispirati ai dotissimi insegnamenti dallo Zigarelli Rossini quando venne a conoscenza dei lavori di Mercadante si congratulò personalmente con lo Zigarelli dicendo hai fatto un ottimo allievo tra parentesi lo Zigarelli non era stato neanche molto molto benevole con Rossini gli aveva criticato gli aveva trovato un sacco di difetti ma questa è un'altra storia a 24 anni la prima opera del San Carlo del nuovo astro nascende Savere Mercadante ma il vero grande successo quello che lo consacra da un giorno all'altro come il nuovo genio della cultura italiana è alla scala di Milano con l'opera Elisa e Claudio un'opera che tiene un successo estremitoso a parte le numerose recite fatte alla scala di Milano viene ripetuta dappertutto esordisce perfino in Austria con un trionfo un trionfo inimmaginabile e di lì Mercadante inizia a comporre con una rapidità straordinaria pensate che nel giro di pochi anni scrive più di una trentina di opere arriverà alla fine della sua vita a comporre circa una sessantina passando Mercadante di successo in successo con una vita molto avventuriosa con soggiorni anche di anni in Svagna in Portogallo poi dopo maestro di Cappella a Novara il suo stile si cambia quando viene a contatto con altri musicisti comincia a pensare che certi orpeghi sono costituiscono l'elemento volgare che non si addice al melodramma che dovrebbe essere concepito più seriosamente più drammaticamente esposto l'accostamento con Mayer a Parigi gli aprì nuovi orizzonti capì che l'orchestrazione poteva essere più leggera poteva essere meno ballistica capì che si potevano eliminare i crescenti rossiliani che si potevano eliminare le cabalette perché rappresentavano la parte banale la parte più volgare dell'opera la cabaletta era la stretta finale dell'aria dove praticamente l'elemento canoro aveva il sopravvento e quindi era un fenomeno di bravura ma una bravura gratuita che non si non aderiva alla drammaticità del soggetto quello che invece mercadalmente tendeva a ridistribuire cabalette famose possono essere per esempio dal rigoletto oppure l'altro viaggio ancora peggio di buon rapido e questo per mercadalmente era volgare come volgare era per esempio il crescendo rossiniano crescendo che aveva fatto la fortuna di Rossini in parole povere che cos'è un crescendo ne esiste uno nel novecento in un'opera famosissima che tutti conoscerete il famoso Bolero di Ravel un motivo sempre quello che si ripete ma prima fatto da uno strumento solo poi poi dunque da un gruppo e qui la diciamo che la dinamica dell'orchestra cresce a poco a poco a poco a poco e arriva nel giro di 18 minuti 20 minuti arriva a un fragore colossale questo era una forma diciamo così una specie di artificio non era una forma particolarmente pregnante di profondità musicali un artificio per guadagnare consensi a Mercadante una cosa del genere dava fastidio il risultato è in tutta chiarezza che un motivo di Mercadante che si possa dischiettare non esiste è musica meravigliosa è musica nobilissima è musica scritta per colti ma questo è lo stile di Mercadante il quale guarda avanti guardi a una serietà a una serietà che sta per venire verdi che ha costanza intelligente approfitta di quello che Mercadante fa a suo modo le cavalette le conserva perché gli servono però il processo dell'approfondimento drammatico è quello dei mani in tatt e non dimentichiamo che nel giro di pochi anni succedono cose strepitose dall'ottocene già la corrente romantica che viene come un turbine affascina affascina e travolge non tutti sono disponibili ad accettarla a cominciare ad abitare il stesso ma intendiamoci non perché qualcuno avesse qualcosa contro il romanticismo ma che il musicista di razza preferiva sentirsi libero di accettare o non accettare quello che il romanticismo gli suggeriva Rossini di fronte al fenomeno travolgente piuttosto che abbandonare la sua indole preferita cioè il mercantismo non scrive più musica lascia e giovanissimo si trasferisce in Francia dove non scrive più musica tranne dopo molti anni una stupenda petite messe solennelle capolavoro scritta per due pianoforti un armonium e un coro mercantante non 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 accetta il fenomeno ma non li si mette contro lui continua nella sua via bisogna dire una cosa che l'aver accettato a 45 anni di dirigere in un conservatorio naturalmente gli comporta una responsabilità enorme e quindi le sue traduzioni devono per forza per forza di cosa diminu- diventare più scarse cioè più diradate nel tempo non fai a tempo a capire che Verdi sta stravolgendo l'idea del melodramma crea dei capolavori come il famoso trittico Rigoletto Traviata Trovatore quando ti sorge un altro astro che ti scrive un certo Richard Wagner il prelude del Tristano di Sotta è un colpo terrificante che viene inferto a tutta la musica e seguire la pianoforte da solo di Bia eccetera eccetera è un'opera satanica tutti potete con un colpo di click cercare qualche idea non fa tempo questa musica a diventare musica di carattere mondiale che già sorge un altro l'impressionismo nella pittura e nella musica sorgono persone di Biosi come i pittori come Manet Monet Van Gogh ma non è tutto il Tristano di Sotta porta alla dissoluzione tonale e appare Schoenberg e poi dopo Schoenberg arriva il futurismo di Marinetti troppe cose succedono e soprattutto il melodramma è diventato un patrimonio che non è più solo italiano si possono contare gli autori a centinaia e certo che per Mercadante rimaneva poco posto ma mi ha detto una cosa per fortuna suo Mercadante non compose solo opere ma Mercadante scrisse sicurie e soprattutto scrisse concerti per strumenti e orchestra due concetti meravigliosi per flaut e due per clarinetto e anche uno per corno che rappresentavano a quell'epoca una manna dal cielo perché il repertorio di quegli strumenti a parte la loro presentazione in orchestra era molto striminzito e quindi quella tradizione ha mantenuto in essere la figura del Mercadante la musica è un'arte particolare perché una meravigliosa partitura musicale la più grande opera che esista al mondo non sarà mai niente fino a quando non c'è qualcuno che non la la mette in moto ma la musica ha un linguaggio suo ha un linguaggio suo particolare gli addetti ai lavori possono capirlo ma se per esempio l'autore scrive e ho fatto il pubblico sarà ingannato quindi la personalità dell'interprete è importantissima ho appreso che un direttore della fama come Schippers nell'inaugurazione di un festival importante come quello di Spoleto sceglie il giuramento di Mercadante con un'orchestra internazionale cantanti di primo ordine non master apprendo che il direttore tedesco Albrecht fa una disco a Berlino del giuramento di Mercadanti apprendo che numero di cantanti di primissimo ordine non dimentichiamo che il valore dell'opera d'arte sta anche nel valore dei suoi interpreti allora posso citare domingo Carreras Maria Chiara il tenore Giorgio Merighi Katia Ricciarelli Mirella Freni Fiorenza Cossotto direttori come Riccardo Mutti Martimotti che vanno in giro per il mondo la Ricciarelli e i Carreras fanno una tournée in America con duetti di Mercadanti non solo scopro che su Amazon si vendono tranquillamente tutti i cd delle più famose opere di Mercadanti potete trovare L'Ellera La Feltre L'Orazi I Coriazi il Giuramento il Leggette è come se l'araba felice fosse risolta dalle sue cederi non può che questa consapevolezza questa scoperta mi riempie di gioia è di soddisfazione come deve essere per un motivo campanilistico ma non è solo quello quello sarebbe un fatto un fatto come dire non meditato ma conseguenziale io ne sono felice come musicista che a Mercadanti venga restituito quel valore che ingiustamente forse per un cumere di avvenimenti non dipendenti dalla sua volontà ma l'educazione del pubblico dalla ineducazione del pubblico non ha potuto percepire e non è mai troppo tardi e secondo me questo è un fenomeno che continuerà a mi auguro nel tempo è sempre meglio detto questo rimane un piccolo dubbio che mi piace esternare questi grandi voglio paragonare Mercadanti a Rossini perché praticamente somminano non solo dal punto di vista della musica ma dal punto di vista umano ho quasi l'impressione che loro stessi considerassero le loro opere come opere a termine opere destinate a morire perché dai documenti venuti dopo la loro morte non si legge da nessuna parte che loro tenessero a continuare anzi si assiste al fenomeno contrario mentre Wagner al colmo della gloria si fa a costruire un teatro dove si devono rappresentare solo le sue opere Rossini è mercadante anche Rossini morendo dona tutto il suo patrimonio immenso immenso patrimonio miliardario per l'epoca al comune di Pesaro con l'intento di creare una scuola di musica perché è giusto che la musica continui attraverso i giovani più o meno la stessa cosa che la mercadante quando accetta di prendersi cura dei giovani facendo il direttore nel conservatorio San Pietro Maiera di Napoli una un'opera una condizione di umiltà e anche di rispetto non solo per se stessi ma anche per gli altri sono testimonianze che al di là dei loro meriti artistici andrebbero analizzate e sperimentate io ogni volta che ho letto il testamento di Rossini non ho potuto frenare le lacrime pensando questa grandezza d'animo questo guardare ai giovani ai nuovi perché gli altri facessero sono quello che loro avevano iniziato e rinunciando a se stessi vi saluto a se stessi Grazie.